Ho già detto al governo che ha visto che non ci si è parlati prima, ma toccherà parlarsi dopo, perché noi non è che... In tutto questo giro, IRPEF, detrazioni, IVA, considerando tutte le criticità di questa cosa, compreso il fatto che, francamente, io, per esempio, qualcosina viene in tasca anche a me dell'evoluzione IRPEF, non lo voglio. C'ha ragione lui, ci sono gli incampienti, ci sono... E io non accetto che, diciamo, ai ceti popolari gli metti un euro in una tasca e magari gli metti via un e mezzo o due dall'altra. E certamente l'IVA è un modo molto efficiente per tirarglielo via dall'altra. Quindi io mi fermo qui, però dico adesso qui bisogna fare una riflessione vera, vera, perché non possiamo scherzare questo punto, torno a questo punto. Quindi io do la disponibilità a considerare, a parlare, a vedere, a considerare nell'insieme come facciamo una cosa che aiuti la domanda interna e non deprima la domanda interna.